Un saluto a tutti gli amici di HTVlog, siamo il compagnato Daniele Di Grandis che ci illustrerà il nuovo HTC Legend, la nuova versione dell'HTC Hero con l'interfaccia Sense e Android 2.0. Salve a tutti, HTC Legend introduce alcune grandi novità dal punto di vista della funzionalità ma anche costruttivo, è il primo telefono al mondo a essere fatto da una scocca interamente di metallo, infatti è un telefono totalmente in alluminio che ovviamente ha un cuore estremamente vitale che è rappresentato dalla piattaforma HTC Sense che è ovviamente aggiornata con alcune novità, ad esempio la possibilità che ho di accedere a una delle sette interfacce che compongono le schermate del HTC Sense, unitamente ha un applicativo che si chiama FriendStream, quindi posso postare un mio commento che automaticamente mi viene ribadito in tutti i siti di social networking, quindi tutti i tool di social networking che ho usato da Facebook a Twitter a Flickr e quant'altro. Queste ovviamente sono alcune delle novità del cuore di Legend che ha anche un mouse ottico attraverso il quale poter scorrere le varie facce e ovviamente il mouse è anche cliccabile, quindi semplicemente spingendo sul mouse accedo alla funzione che sto attivando in quel momento. È un prodotto totalmente flessibile e customizzabile, con il concetto dei widget posso in qualsiasi momento togliere o mettere un applicativo semplicemente con l'uso di un semplicissimo gesto, quindi ho la possibilità ovviamente di personalizzare il mio dispositivo in tempo reale con le informazioni che più mi interessano. HTC Legend ha anche una fotocamera da 5 megapixel con un flash e ovviamente un concentrato di stile e di design così come in linea con la tradizione e la visione di HTC. Un saluto a tutti gli amici di HTVlog, a Barcelona e a HTC.